Starete chiedendo perché Rockefeller Center? Perché l'ambino di Rockefeller Center ha origini campane, e lo specifico infine perché nel 1931 un operaio di Montoro con i nuovi colleghi hanno fondato questo albero con quello che aveva una distribuzione materiale, tra cui barattoli, corne e fattato. All'inizio erano molto scendici, pensavano che non avrebbero avuto scendici, invece nel corso degli anni è diventato famoso in tutto il mondo. Dal 24 dicembre 1931, dopo due anni, ci fu l'accensione ufficiale, e ad ora è un albero famoso in tutto il mondo. Ciao amici, rimanete collegati con altre novità da tutto il mondo. Bye bye, Merry Christmas! Grazie a tutti! Grazie a tutti!